Grande successo per il primo dei due appuntamenti delle Fonti Awards, tenutosi lunedì 13 novembre 2017 nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. L'evento ha registrato il sold out con oltre 50 studi legali e 30 tra imprese, compagnie assicurative e società finanziarie, presenti alla manifestazione di riconoscimento delle eccellenze italiane per Antenomasia. Team legale dell'anno, contenzioso diritto del lavoro, il premio viene assegnato allo studio legale Lavizzari, associazione professionale, per la elevata competenza e la specializzazione dimostrate dal team di esperti legali che hanno affiancato con successo i clienti nella gestione di tutte le questioni lavoristiche, ne fanno dello studio una boutique di eccellenza legale in materia di contenzioso nel settore del diritto del lavoro. Complimenti! Complimenti, bravissimi! Elephant Awards 2017, lo studio legale Lavizzari ha ottenuto un importante riconoscimento come team legale dell'anno in materia di contenzioso nel diritto del lavoro. Siamo in presenza dell'avvocato Gianluca Lavizzari, al quale chiedo un commento per questo importante riconoscimento. Beh, intanto è stata una sorpresa molto piacevole, molto stimolante per noi e a noi piace anche considerarla un riconoscimento specifico al fondatore del nostro studio che è l'avvocato Manfredo che è mio padre e che è stato e tuttora lavora ancora letteralmente un pioniere del diritto del lavoro. Lui ha iniziato a occuparsi del diritto del lavoro quando è nato il diritto del lavoro prima, la legge sui licenziamenti, lo statuto dei lavoratori, il processo del lavoro nel 73 e da quegli anni ha iniziato a occuparsi pressoché esclusivamente il diritto del diritto del lavoro in un periodo tra l'altro in cui anche per questioni politiche eccetera eccetera era particolarmente difficile difendere la parte datoriale che è la parte poi che il nostro studio ha da sempre assistito. Quindi a me piace considerarlo un riconoscimento in particolare per il nostro fondatore. Avvocato Lavizzari, lei si occupa prevalentemente di questioni lavoristiche nel settore delle assicurazioni. Ecco vogliamo parlare del tema ricorrente nella responsabilità oggettiva del mandante nell'ambito dei rapporti di agenzia? Sì è un problema che è diventato molto importante nel senso che negli anni, cioè il problema è molto serio, molto ricorrente, cioè il fatto dell'illecito che viene commesso dalla gente che truffa il cliente, l'assicurato, non so il promotore finanziario per le banche che truffa l'investitore e si è passati da una responsabilità pressoché inesistente della banca o della compagnia di assicurazione con un'evoluzione giurisprudenziale che poi ha esteso l'applicazione di questa responsabilità del preposto, del dipendente anche al mandante, quindi anche al rapporto di agenzia. Da ultimo all'evoluzione giurisprudenziale si è accompagnata anche un'evoluzione legislativa che mira alla tutela del consumatore, direi un concetto sacrosanto. Qual è il problema? Il problema è che la fattispecie dell'illecito, dell'agente o del promotore è una fattispecie molto frequente. Il tipo di responsabilità che si è venuta a creare e la giurisprudenza che si è venuta a creare al riguardo tratta questa responsabilità come una responsabilità oggettiva. La difficoltà nella difesa delle compagnie o delle banche è quella di convincere il giudice sostanzialmente che un conto è responsabilità oggettiva, un conto è una responsabilità a prescindere da qualunque cosa. Perché il comportamento del consumatore intanto non deve essere assolutamente anomalo, cioè va bene essere truffato, essere imbrogliato dalla gente, però ci vuole una parvenza di verosimiglianza nei contratti che si stipulano. E poi il problema è quello che si rischia la truffa. Se consideriamo, come purtroppo molti tribunali di merito alla fine arrivano a considerare che all'illecito dell'agente corrisponde la responsabilità della mandante per il semplice fatto di avere un contratto di mandato di agenzia, si potrebbe arrivare all'assurdo che il consumatore d'accordo con l'agente può creare una finta truffa sulla quale poi risponde la compagnia che non è in grado assolutamente di difendersi. C'è una giurisprudenza sia di legittimità che di merito che inizia a dare un rilievo al comportamento anche del consumatore, che non deve essere completamente anomalo, non deve essere quasi di collusione con l'agente, deve esserci una prova del pagamento, una prova del contratto, un minimo di prova. È però una posizione molto difficile dal punto di vista della prova per chi difende appunto il mandante o la banca nei rapporti di promozione finanziaria. Siamo nell'era dell'industria 4.0, trasformazione digitale, social network, insomma possiamo dire che siamo connessi sempre e ovunque. Ecco proprio a proposito di social network, qual è l'impatto di questi ultimi nel rapporto di lavoro? L'impatto è devastante, è devastante nel senso che le persone normali, il lavoratore, il potenziale lavoratore non si rende conto dell'importanza che ha nei social network. Oggi, prima del contratto di lavoro, una società finisce a dare un ufficio del personale più importanza al profilo Facebook, al profilo LinkedIn, al profilo su altri social che al curriculum. Il curriculum è qualcosa che in genere viene considerato costruito un po' ad arte, eccetera, eccetera. Il profilo sui social dà, o quantomeno si pensa che dia, un'idea di quella che è effettivamente il personaggio. Quindi già in sede di assunzione ci sono delle persone che hanno fatto un po' gli spiritodi, diciamo così, sui social network e hanno dei problemi. Quello che succede e che ha creato una giurisprudenza adesso veramente cospicua è le vicende che hanno i social network nel corso del rapporto di lavoro. Pensiamo al dipendente in ferie che posta, il dipendente in malattia che posta la fotografia del giorno in cui era in malattia, che balla sui tavoli in discoteca, che gioca una partita di calcio, che è in vacanza alle Maldive. C'è un numero di licenziamenti fondati su questi fatti enorme e oltretutto quello che la gente non considera è che i divieti di controllo, i limiti di controllo che contraddistinguono il rapporto di lavoro, l'atto datore di lavoro, non esistono per i social network perché sono pubblici. Quello che io pubblico è pubblico ed è virale. Io posso avere 5, 6, 7 amici su un social network, ma se l'amico che vede la mia foto ne ha 2000, ecco, i danni che i lavoratori si fanno in questo caso sono veramente, veramente importanti.